Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo delle 10 curiosità su un cartone animato che immagino avrete seguito in tanti, ovvero Spongebob. Partiamo subito. I personaggi di Spongebob rappresentano i 7 peccati capitali. Patrick, la pigrizia, Squiddy, l'ira, Mr. Krabs, l'avidità, Plankton, l'invidia, Gary, la gola, Sandy, l'orgoglio e Spongebob, la lussuria. Squiddy non è un calamaro ma un octopus a cui sono state date solo 6 zampe perché il disegno era più carino. Il Krabby Patty è vegetariano. Il primo disegno di Spongebob aveva un cappello verde. Bichini Bottom esiste davvero ed è un'isola in Micronesia fatta di coralli. Spongebob, quando fa la spesa, deve comunque acquistare l'acqua, nonostante abiti sugli abissi marini. È il cartone preferito di Barack Obama. Spongebob doveva chiamarsi all'inizio Spongeboy, ma questo nome era stato usato per una scopa e non poteva essere riutilizzato. Spongebob è stato per 374 volte impiegato del mese. Significa che ha lavorato ininterrottamente per circa 31 anni, ma in realtà è nato il 14 luglio del 1986. Il creatore di Spongebob è un vero biologo marino. Ok ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se vi trovate invece su YouTube iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e guardate i vecchi video. Ok, un bacione e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!